ciao a tutti il brano di questa quarta tappa che oggi è stato scelto è il brano del della guarigione del servo del centurione e mi piace sottolineare alcune cose che ho voluto che che mi sono venute in mente che ho meditato in particolare la prima il primo aspetto che voglio sottolineare è il fatto che dobbiamo avere una grande attenzione verso coloro che soffrono perché a volte le persone che soffrono e che ci stanno accanto lo possiamo notare anche verso noi stessi quando noi siamo sofferenti a volte facciamo difficoltà a chiedere aiuto e quindi li dobbiamo avere uno sguardo che sia uno sguardo lungimirante che guardi lontano e che possa accorgersi della sofferenza dell'altro del nostro amico del nostro vicino del nostro familiare di colui che ci sta accanto affinché possiamo veramente aiutarlo e veramente compiere un miracolo perché già una volta che noi ci mettiamo accanto il miracolo è fatto poi un secondo aspetto è appunto il fatto che ci scopriamo anche indegni cioè vorremmo fare molto di più per quella persona che ci sta accanto una volta che ce ne accorgiamo però comprendiamo che siamo poca cosa che non possiamo aiutarlo così come vorremmo perché poi c'è uno spazio che è personale che di quel ragazzo di quella persona e che deve uscirne da solo o meglio noi comprendiamo che ha bisogno non solo del nostro aiuto ma dell'aiuto di dio e quindi come il centurione che si scopre indegno e mentre vede arrivare mentre sente che gesù sta arrivando gli manda alcuni amici a dire che si che non si scomodi così tanto perché basta che signore dica una parola ed egli sarà salvato noi dobbiamo nutrire questa fede dobbiamo avere questa fede verso il signore consapevoli che veramente il signore può fare molto può guarire e un'altra cosa un altro aspetto è il fatto che si viene a creare una in questo modo una catena umana guardate una catena umana di amore come direbbe lega vuoi si mette in circolo questo amore e infatti lo notiamo dal fatto che il servo il centurione manda dei giudei ma gli stessi giudei a chiedere a Gesù che possa venire a casa sua ma gli stessi giudei poi pregano veramente il signore perché vogliono bene a quel centurione cioè veramente si è messo in circolo l'amore e però una cosa che voglio sottolineare qui magari i giudei erano amici di quel centurione perché li trattava bene però noi dobbiamo avere questa attenzione questa grande attenzione soprattutto verso coloro che stanno che sono vicino a noi perché che che noi conosciamo ma che si mantengono più distanti perché è verso di loro che c'è veramente bisogno cioè è loro veramente che hanno bisogno di noi sono coloro che magari si mettono un po ai margini dobbiamo avere veramente questa grande attenzione verso di loro perché come come il servo per esempio era una persona di poco conto o come il centurione anche il centurione era un pagano quindi erano dei nemici però noi vediamo che l'amore di Gesù supera queste barriere e si lancia addirittura verso di loro cioè Gesù non non ci perde tempo e va verso di loro e vuole guarire quel servo addirittura poi lo guarisce senza avvicinarsi e alla fine voglio sottolineare solo che alla fine come ha fatto il come lo possiamo vedere nell'ecenturione questa cura verso l'altro cura te stesso alla fine e centurione ha avuto una grande fede una fede che israeli nemmeno israele ha potuto avere che ha avuto e aggrappandosi a Gesù non solo ha salvato il suo servo ma ha salvato se stesse se stesso e allora ragazzi vi auguro un buon cammino e che dio vi benedica ciao